E ancora caccia al piromane dei rifiuti che da diverso tempo ha preso di mira i cassonetti della città. Lo scorso anno gli episodi si erano concentrati sul lungomare, al Lido e alla Sassonia. Da giugno ad oggi invece sono stati registrati quasi tutti nel quartiere di San Lazzaro a Fano e hanno riguardato i contenitori della carta. La notte scorsa, poco prima del luna, i vigili del fuoco sono intervenuti sia in via dei Gabrielli che in via del ponte. Due incendi si presume appiccati da qualcuno e a distanza di pochissimo tempo, questa volta però, è toccato anche ad un cassonetto della plastica come testimonia al video inviato da un nostro reporter di strada. È pericoloso perché può fare la sfiammata, queste robe così, eh? Questa mattina sono stati rimossi e portati nei capannuni di Aset in via Mattei. Non è semplice però risalire al responsabile soltanto attraverso gli impianti di videosorveglianza installati in diverse isole ecologiche perché queste, per legge, devono essere ben segnalate e dunque sono visibili. Chi vuole compiere atti vandalici sta ben attento ad entrare in azione in quelle zone sprovviste di telecamere. Registriamo una frequenza piuttosto preoccupante di incendi dolosi dei nostri cassonetti della carta. Quest'anno, tra giugno e inizio di settembre, abbiamo avuto sette casi. Rispetto al 2020, in cui in tutto l'anno abbiamo avuto solo due casi, quindi evidentemente c'è una recrudescenza di comportamenti veramente da combattere. E in che modo è possibile farlo? Ma noi chiaramente abbiamo già fatto denuncia presso le forze dell'ordine, quindi stiamo collaborando con i carabinieri per cercare di individuare la persona o le persone che stanno facendo queste cose in giro per la città. Chiediamo chiaramente la collaborazione di tutti, nel caso qualcuno riesca a intravedere comportamenti anomali e ci dia una mano e segnali le cose alle forze dell'ordine. Oltre al cassonetto vanno in fumo anche circa 800 euro per ricomprarlo nuovo. A questa cifra vanno aggiunte le spese per lo smaltimento e la ripulitura, il totale sale così a 2000 euro. Non si tratta di danni enormi, però secondo noi la situazione è anche di pericolo perché stanno incendiando cassonetti in zone urbanizzate, vicino a macchine parcheggiate, abitazioni, civili abitazioni. Quindi oltre a un danno economico che riguarda chiaramente la sostituzione del cassonetto, le attività, la produzione di rifiuti speciali da smaltire, c'è anche la preoccupazione per un ripetersi di eventi pericolosi.